vai ragazzi oggi risottino a modo mio taglio gli asparagi faccio sbollentare i tronchetti vai una noce di burro in padella aggiungo le punte senza farle sbollentare che li uso come decoro vai cipollina a fiume riso spettacolo a sentimento e un po alla volta aggiungo il brodo vegetale spettacolo vai dopo dieci minuti di cottura del riso aggiungo i tronchetti sbollentati per fare insaporire il riso un po di sale a pioggia tre minuti prima della cottura del riso una noce di burro robiola ad essere bello carico vai parmigiana a sentimento a soddisfazione mescolo guardate che crema e guardate che spettacolo